Ho comprato un cane malato sotto l'autobus è andato e quel cane ora non c'è perché è diventato pure Io però che c'era affezionato era diventato piccolino e così l'ho messo in un panino e purtroppo ha fatto male all'intestino Ho comprato un cane malato sotto l'autobus è andato e quel cane ora non c'è perché è diventato pure